ma per me personalmente fede vuol dire fidarsi cioè fidarsi vuol dire tutto praticamente vai io non mi sono mai posta dei grandi interrogativi circa la mia fede nonostante faccia questo lavoro i miei dubbi io li ho su tante cose perché penso che sia normale però mi fido un po come diceva pietro vabbè signore se lo dici tu cammino anche sull'acqua vedremo che cosa succede cioè per me è un po così realmente perché non non è avere delle risposte perché comunque non nemmeno ripeto facendo il mio lavoro ea volte vedendo questi santi che avevano le idee molto più chiare di me nonostante loro io non ce li ho del tutto chiare e i miei dubbi li ho